Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video In questo nuovissimo video, come vedete già in seguito da titolo, parleremo dei 5 youtuber Aspettate che abbasso il volume della musica, perché se no... Allora, parleremo dei 5 youtuber più famosi su YouTube Italia Prima elenchiamo quelli che secondo me sono, poi ci andiamo a guardare un video e magari anche delle immagini Allora, il primo youtuber che secondo me ha più iscritti è Anima Che dopo vi specificherò quanti se ne ha, quanti iscritti e quante visualizzazioni ha soltanto un suo video E poi, passiamo ad altro Poi, il secondo youtuber che secondo me è più famoso su YouTube Italia È proprio Surreal Power No, aspettate No, è sbagliato È Stepnum Il terzo è Surreal Power Secondo me sono elencati così, ma adesso sono elencati su tante mates Poi, Papa Vegas, neanche che lo sta elencare Cioè, voglio dire E poi Parliamo un po' di altri youtuber che non sono i mates Tipo PewDiePie PewDiePie si concede il quarto posto No No, non è vero Non è vero Il vostro caro Dexter E si avviene il quarto posto Per quinto posto ragazzi abbiamo Grax È molto famoso per solo con Bocco Gigante La parodia di Tutto molto interessante E' diventato molto famoso per quella E quella canzone è stata la canzone più visitata al mondo di Clash Royale Non mi ricordo se era il mondo o in Italia Comunque io vi dico questo E poi, secondo me L'ultimo youtuber Mi sa che ne ho elencati cinque L'ultimo youtuber L'ultimo youtuber che credo sia il più scasso E' PewDiePie Ma io non ho niente contro PewDiePie Io sto dicendo soltanto quello che penso io Dopo non lo so Adesso andremo a vedere Tutto Tutte le nostre immagini dei nostri youtuber Allora Il primo che vi ho elencato è Anna Che adesso andremo subito a vedere Allora Anna Anna Allora Anna Fa questa tipologia di video qua Aspettate Che adesso vi ho metto per bene Fa questa tipologia di video qua Che voi non vedete bene neanche se Fa questi video qua Con la Sabri Gamer Anima è fidanzato con la Sabri Gamer Da quello che ho capito E lui fa dei vlog Tipo questo qua Che Come La mia operazione Vlog in ospedale E non è che E vabbè Fa tutte cose fighe E magari se io Riesco a trovare le immagini Cerchiamo Immagini Ecco Adesso vi faccio vedere una foto Dove vi farò vedere che anche Surry Ha le tipe che gli vanno dietro E che tipe Con una marmotta Un video diverso Che spero vi piaccia Buona visione animali animali Questa è la sigla di anime Oddio Questa è meglio cancellarla Altra Non la commento E bella a tutti ragazzi e ragazze Sono anime Bentornati in questo mio nuovo video Oggi siamo in un nuovo video Un po' particolare In tante persone mi hanno chiesto Nei commenti Di andare nel proprio Rolino fotografico Scegliere foto a caso E commentarle Allora ragazzi Avete potuto vedere L'angelo di anima E la sigla di anima E chi è anima Allora Non è che vi sto a far vedere Farvi vedere tutto il video Perché dura 10 minuti Quindi No Allora Allora Il secondo youtuber Che vi avevo orientato Era Stepney Che il suo vero Aspettate Che il suo vero nome È Stefano Lepri Lepri Cognome E quello che vuol dire Che io mi sono bloccato Che anima È Sasha Il suo vero Il nome vero di anima È Sasha Questo L'ho scoperto Quando i mates L'hanno chiamato Sasha Io Sori al power Pensavo Che si chiamava Surry E Ma Non 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 Si chiamava Surry Perché io pensavo Che aveva Giunto Al power Allora Cerchiamo Stepney Allora Cerchiamo Stefano Lepri Allora Lepri Eccolo qui Andiamo un po' Vedere Su Aspettate La intro La intro Di Stefano Lepri Aspettate che ho unito schermo intero Questo è il 2016 Perché adesso Adesso ha cambiato Stanza Questo video E' del 2000 E' del 1999 Il 2015 Quindi è proprio vecchio questo video Ok ragazzi Avete visto Anche Chi è Stepney Adesso E' così Aspettate che se mi manca la mia vita Mi fa un malissimo capore Oh Minchia Eh ma va bene Eh oh va bene Ah 2492 No Ah 2.492 Scri No 22.492 980 Iscritti Un po' Molti Direi Leggermente Molti Leggermente E questo video Ho raggiunto I 110.713 Like E 1315 Dislike Allora ragazzi Passiamo Con l'altro youtuber Che era Il nostro Caro Dexter Silenzio Saluto Ecco il vostro caro Dexter Allora E' lì E' lì Ciao ragazzi Sono il vostro caro Dexter Ragazzi sono tornato qui con Violetta Per una nuova Challenge No Non è la challenge Ma è una sfida Un Dexter e Violetta Versus Food E Versus Stavolta America Allora ragazzi Il vostro caro Dexter Ha 2.199.580 iscritti Questo video Ha raggiunto 36.628 like 604 dislike 223.906 visualizzazioni Ehm Quella di Mi sa che è la sua ragazza Non lo so Allora L'altro youtuber Scusate se vado veloce E' che Siamo a Minchia 9 minuti E 3 Nei 40 secondi Minchia Allero Allora L'altro youtuber Era L'ultimo youtuber Era PewDiePie Eccolo Ok ragazzi Eccolo qui No Questo non è il video Che fa per me Oh Vabbè Più di poi Ok Ok Questo era PewDiePie Che ha Ehm Vediamo Ehm 55 Ehm E ha avuto Ehm 287.584 like 3559 dislike E ha avuto Anche Ehm 3.124.919 visualizzazioni Quindi Anche PewDiePie Ehm Ehm Un bravo youtuber Allora Ragazzi Ehm Adesso Vi volevo dire Ehm Una cosa Che Ehm Non abbiamo Ehm Non siamo andati A vedere Ehm Anima 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 Ha Ehm Quanti iscritti Ha Non può vedere Ehm Questa è un'altra Ehm No No Questa qua È la Sabri Gamer Mi sembrava strana Ehm Addio Ah Sì Se non fossimo arrivati a 5 C'è anche la Sabri Gamer Che anche lei Ehm È una brava youtuber Ehm Anima Ha Ben 1.906.208 iscritti E Questo video Ha avuto 276.916 visualizzazioni 32.964 like 362 dislike Allora ragazzi Ehm C'è anche che buttiamo via Eh no Ho detto che buttiamo via No Ho detto che mettiamo Non è vero un cazzo Allora ragazzi Ehm Che cazzo Ehm Sto dicendo Non si sa Allora ragazzi Questo video è Terminato Spero vi sia piaciuto Spolliciate Condividete Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E ci vediamo Al prossimo video Ciao Mi piace la musichetta? Ciao Ciao